Musica Cosa ricordare di quest'estate? Beh, forse un nuovo modo di comunicare in spiaggia. Coppie in spiaggia che si lanciano piatti? Non litigano, si stanno mandando messaggi su un frisbee. La proposta di una cena romantica? Che gliel'ho proprio lanciata, diciamo. Un invito a conoscersi dopo un colpo di fulmine. C'è stato lanciato da dei ragazzi qui sulla spiaggia. Si spera di poter uscire con qualche ragazza stasera. I messaggi su frisbee sono un'altra pazzesca idea dell'estate, lanciata dagli animatori di Eventi Samarcanda sulle spiagge della Versilia. Ma avevamo visto gli innamorati della riviera adriatica scriversi messaggi sulle conchiglie, lasciandole su un tronco portato dalla corrente sulla battigia di Bellari e Gea Marina. L'evoluzione romantica del messaggio in bottiglia. Io ho scritto, ti amo? Leonardo, Nidia e Isis. Al mare il linguaggio del popolo degli SMS sceglie altre superfici. La pelle con la moda del body script. Che stai scrivendo? Che amo la mia ragazza. O direttamente sull'intimo. Insomma, l'evoluzione giovane dello script a Manent. Abbiamo finito. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.